Decorazioni in plastica per celebrare il Natale, diffondendo un messaggio di sostenibilità e amore per l'ambiente. È stato questo l'impegno dell'Istituto Comprensivo Santa Croce di Sapri, che ha lavorato per abbellire la parte finale del lungomare, addobbando le aiuole di fronte all'area Exagip e lungo la piazzetta San Francesco, con immagini e significati positivi, tutti costruiti riciclando la plastica. L'impulso è arrivato dalla Proloco di Sapri e dal suo progetto Il Natale Riciclando, che quest'anno ha voluto promuovere tre ragazzi del territorio e nella giornata di domenica si è svolta la cerimonia di inaugurazione dinanzi al sindaco Antonio Gentile. Grazie alla pazienza della raccolta e alla maestria di docenti e alunni, hanno preso forma un presepe di sapore contemporaneo, dei moderni addobbi per gli alberi e poi suggestive candele volte ad illuminare elementi in favore del green. I copertoni sono diventati invece allegri pupazzi di neve, mentre le cassette di plastica dei veicoli di parole importanti come rispetto, pace e amore. Tanta gioia quella espressa ieri dai ragazzi dell'Istituto Santa Croce, guidati dalla dirigente Paola Migaldi, per l'occasione in spiritosa tenuta natalizia assieme ad alcuni docenti. Sapere di aver contribuito a rendere più bella la propria città e a promuovere buone pratiche è stata una grande soddisfazione per gli studenti pronti a continuare il loro percorso formativo lungo queste direttrici. La serata si è poi conclusa con l'illuminazione da parte della Proloco della sua installazione di plastica, un albero di Natale realizzato in villa comunale con circa 3.000 bottigliette. La serata si è poi conclusa con l'illuminazione da parte della Proloco della sua installazione di plastica,